Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due anarchici italiani emigrati negli Stati Uniti a inizio novecento e condannati alla sedia elettrica nel 1927 con l'accusa di omicidio, un verdetto fazioso e vergognoso che non tiene in alcuna considerazione le prove della loro innocenza. Soltanto nel 1977 il governatore del Massachusetts, Michael Dukakis, riconobbe l'errore giudiziario e riabilitò la loro memoria. Il comune di Napoli, attraverso la toponomastica, ha voluto ricordare questo grave episodio intitolando a Sacco e Vanzetti una strada nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove in seguito il sindaco si è intrattenuto con cittadini ed associazioni per affrontare le problematiche del territorio, assicurando il pieno impegno dell'amministrazione ed un ulteriore incontro anche nei prossimi giorni. Siamo orgogliosi di averlo fatto in un quartiere della periferia di Napoli, a San Giovanni, siamo orgogliosi perché sono martiri della libertà, anarchici morti per il pensiero libero, condannati a morte dall'ordine costituito degli Stati Uniti, perché in un'epoca difficile come il 1927 lottavano contro il razzismo e la xenofobia. Quindi oggi significa che Napoli conferma la sua scelta per la libertà, per la democrazia, contro i fascismi, città molto anarchica, con grande sete di giustizia, con il pensiero libero, ma anche un atto di resistenza e di lotta, perché i razzismi, la xenofobia avanzano nel mondo anche oggi, negli Stati Uniti, come in Europa e nella stessa Italia. Quindi Napoli con orgoglio intitola una strada a due anarchici, due italiani coraggiosi che furono condannati a morte con un processo farsa, con un processo reato, nel senso che il reato non l'avevano fatto Sacco e Vanzetti, ma coloro che l'hanno condannato a morte. Quindi viva gli anarchici per la libertà, viva Nicola Sacco, viva Bartolomeo Vanzetti. Successivamente, nell'aula magna della sede di San Giovanni a Teduccio dell'Università Federico II, si è tenuta la cerimonia di conferimento delle stelle al merito del lavoro, una onorificenza del Presidente della Repubblica, attribuita a coloro che si sono particolarmente distinti nello svolgimento della loro attività nei vari settori produttivi. A questo giorno dobbiamo ricordare che il lavoro è il primo articolo della Costituzione repubblicana, quindi dovrebbe essere quello più forte, più potente, più difeso e più attuato, e invece è un diritto in grande sofferenza. Nel nostro Paese molta gente il lavoro non lo ha per nulla, ci sono persone che muoiono sul lavoro, con omicidi che vengono chiamate con un termine assurdo morti bianche, abbiamo persone che hanno un lavoro precario, persone che lo perdono nel pieno dell'età, giovani che non trovano lavoro, condizioni di sicurezza nel lavoro che non sono spesso adeguate. Poi c'è tanta gente che lavora con tanta dignità, con tanta passione, con tanta competenza e con tanta professionalità. Noi auspichiamo che il Parlamento e il Governo possano fare molto di più per le politiche sul lavoro. Nella nostra città proviamo a lottare ogni giorno per tutti i diritti e per il diritto al lavoro, che è il primo articolo della Costituzione, quindi insieme alla sovranità popolare l'espressione più alta della nostra democrazia nata alla resistenza al nazifascismo.